Ho fatto il body block Ambedium Stanno facendo tutti Siccome si mettono la perc quella per saltare E scattare Provano a vincere di quello GG Togliamo il disturbo Allora, dato che abbiamo visto che non giocano Massacriamoli Questo giocatore adesso è la nostra preda Faccio una piccola clip Perché è sparito lui da questo punto Quando sono passato Grazie a tutti